Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi siamo quasi arrivati al primo aggiornamento dopo la patch 8.0 di Fortnite. Nel video di oggi ragazzi, in collaborazione con gli amici del gruppo Telegram Fortnite Italy, andate a darci un'occhiata, vi link in descrizione, parleremo di un bel po' di aggiornamenti. Parleremo ragazzi dell'evento Mappa del Tesoro. Lo avete visto di certo nelle notizie, è ufficialmente apparso qualcosa che ci lascia intendere che incominceremo tra poco a vederne davvero delle belle. Parleremo anche ragazzi delle sfide della settimana numero 2. Sì, già le abbiamo scoperte e quindi ve le voglio anticipare in modo da ricordarvi anche che ci sarà uno standardo segreto questa settimana. So anche già qual è, ma ve lo faccio vedere più avanti. E ovviamente non mancheranno una bella carrellata di leaks che vi terranno sempre aggiornati sul Dietro le Quinte di Fortnite. Voglio intanto ringraziarvi, non posso non farlo, a tutti voi che utilizzate il mio codice XIODERONE per scioppazzare di prepotenza nello shop. Grazie di cuore per il vostro sostegno, grazie a tutti per iscrivervi al canale e soprattutto per tutti quelli che attivano la campanella, storica campanella dei video in modo da non perdersi nessuna news e nessuna live. Prima la domanda, la domandina ragazzi, mi rispondete sempre in tantissimi, non posso non farvela neanche questa volta. Ed è una domanda molto semplice, ma ti mancano gli aeroplani? Gli X4 Stormwing ragazzi, quelli che abbiamo guidato, sparato, pilotato, ci siamo arrabbiati nella season 7. Sentite la loro mancanza? Io no, nel senso non... Cioè, se mi devo muovere da una parte all'altra della mappa, prendo, entro in un cannone e mi faccio sparare tipo uomo proiettile. Per il resto, sinceramente, io non sento la mancanza degli aerei, anzi, apprezzo il fatto che non ci siano più. Ditemi la vostra qua sotto, nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande, e bando alle ciance, si va subito subito a vedere al volo le due notizie ufficiali che Epic Games ci mostra, appunto, nella sezione apposita all'apertura del nostro game. La prima notizia è molto interessante, perché a una settimana di ritardo rispetto alla data di uscita della season, ci vengono proposte le tre location nuove, quindi Laguna Languida, Scalini Scatenati o il Vulcano, e ci esortano, cioè ci invitano ad esplorarle, a visitarle, a viverle, quindi l'avventura ti attende. In poche parole, ragazzi, come vi avevo anticipato da adesso, comincerà la vera e propria season 8. L'altra notizia, quella più interessante, quella di cui tutto il web sta parlando, è ovviamente la X segna il punto. Per l'ostrar l'isola in cerca di bottino, con il nuovo oggetto tesoro sepolto. Attenzione, è un oggetto, ragazzi. Non sono state trapelate assolutamente informazioni relative a questo nuovo oggetto. Noi sappiamo solo che c'è questa mappa, qua la vediamo in una maniera un po' più grande. Se guardate in alto a destra, nella mappa, c'è il disegno mezzo nascosto di un lama sotto forma di mostro marino, barra drago, mentre invece là sopra, ve l'avevo fatto vedere un paio di giorni fa nei video, c'è un kraken, quindi un mostro marino, che è molto simile al piccone che ci hanno dato del Nautilus, nella fine della season 7. Ovviamente, ragazzi, c'è una teoria, una teoria molto interessante, ve la voglio far vedere, voglio condividerla con voi. Sappiamo, guardando dall'alto la prima immagine, che l'oggetto, mappa del tesoro sperduto, è un oggetto vero, reale, quindi non sappiamo se occuperà uno slot del nostro inventario, se invece andrà nella sezione dove ci sono le trappole. Insomma, sappiamo però, ragazzi, che nel quadrato I4, credo che sia corretto, c'è davvero una X. Come vedete ragazzi, guardate proprio, aspetta, faccio così che lo vedete bene, l'immagine quella più a destra del vostro schermo, vi fa vedere nel dettaglio, che lì c'è davvero una X, la più evidente, ed è anche casualmente, nella posizione corretta, rispetto alla X, che è segnata in mappa. E sappiamo anche, ragazzi, già ve li avevo fatto vedere, quindi qua, ve li riassumo, che ci sono degli oggetti, trovati nei file di gioco. Abbiamo la pala, voi, adesso non la vedete, aspetta, eccola qua, la pala, abbiamo la buca, che è quella di là, e abbiamo proprio il forziere del tesoro, con tanto di nomi nei codici sorgenti. Questa, ragazzi, è l'immagine più chiara, più limpida del forziere, che quindi sarà sia chiuso, ma che potremo aprire. Non sappiamo, ragazzi, se basterà semplicemente avvicinarci e aprirlo, e che cosa conterrà. Purtroppo si stanno veramente riservando di non far trapelare nulla dal team di Epic Games. Quindi, ragazzi, ovviamente non ci resta che aspettare e vivere insieme anche l'attesa di questa nuova modalità. Sembrerebbe, ragazzi, che ci sia tutta una modalità intorno a questo nuovo oggetto. Ovviamente, appena ne so di più, lo saprete anche voi. Ma andiamo avanti con un'altra immagine incredibile, che ha pubblicato, se non erro, qualche ora fa, Epic Games, ed è un'immagine relativa alla modalità creativa. Non ci interessa tanto l'immagine, quanto la skin, ragazzi, che viene mostrata. È una skin mai vista. È assurda, ragazzi, non sappiamo, anche perché la vediamo di spalle, quindi non abbiamo idea di come sia di fronte. Notiamo solamente che è una skin che indossa una specie di, non so, sembra una tuta di protezione, con addirittura un giubbotto sopra, arancio, con delle macchie azzurre, i pantaloni neri, con delle macchie arancio, che quindi, ben presto, potrebbe essere inserita nello shop. Sapete che per vedere le nuove skin, che potranno essere inserite, bisogna aspettare gli aggiornamenti, quelli grossi, quelli che buttano giù i server, in poche parole, perché lì inseriscono tutti i pacchetti, con tutta la roba nuova, che gli va a coprire i 14 giorni successivi. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo anche della patch 8.1, quella che dovrebbe arrivare tra pochissimo, tre i grandi aggiornamenti di questa patch, ragazzi. Il primo, lo conoscete, il nuovo fucile, versione leggendaria, versione epica, toglierà 47, se non ricordo male, nella versione epica, 50 nella versione leggendaria. Ma faranno anche dei fix all'audio di gioco. Queste sono parole scritte direttamente su Reddit, dagli sviluppatori di Epic Games, miglioreranno i passi, quindi sarà ancora più facile intuire, e da dove si attaccano i nemici o dove sono intorno a noi, ridurranno invece il suono delle distruzioni, delle strutture e dei colpi sparati da alcune armi, perché sembra diano un po' fastidio. Ovviamente inseriranno anche la modalità mappa del tesoro, che non vediamo l'ora di andare a vedere. Chiudiamo, ragazzi, invece, con questa meravigliosa immagine della Skin Iconic. Questa è l'immagine vera della Skin, se non lo sapete, Ninja è l'unico al mondo che già la sta utilizzando, Skin che arriva insieme al suo balletto, che si chiama Scenario. Volevo farvi vedere, ragazzi, la promo ufficiale di Samsung, che mostra appunto il balletto eseguito esattamente dalla Skin Iconic. molto molto carino come balletto. La cosa, ragazzi, veramente interessante del balletto Scenario è che sembrerebbe non sia esclusivo. Nel senso, mi spiego meglio, è stato trovato questo codice nei file di gioco. Non ve lo sto a spiegare, ma in due righe viene detto che il balletto Scenario è dato insieme alla Skin, ma sarà probabilmente anche nello Shop. Quindi, ragazzi, non ci resta che aspettare che venga rilasciata la Skin e quindi capirne un po' di più. Io per oggi vi ringrazio tantissimo per aver guardato la Live. Mi raccomando, ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo oggi in Live. Ciao! 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 Ciao!